come state spero bene sono ritornata su youtube è perché mi ero un attimo soffermata su instagram e tiktok vi scrivo come mi chiamo sotto nei commenti non avete notato una cosa ho messo l'apparecchio fisso e mi sono fatto un buco le orecchie da un sacco non ce l'avevo mai questa volta io tutti mi sono messo pure lo sbatto mi piace oggi ritorniamo con un unboxing e credo che su tiktok non faccio video da più di un anno allora scusate se ho cambiato location ma sono cambiato sfondo e perché si facevano dei vari cambiamenti per i miei video quindi ho voluto cambiato sfondo scrivetemi su instagram se vi piace il mio il mio sfondo per diventare molto più divertente ma professionale iniziamo con il primo capo allora io avevo questa magliettina con questa metti con questo meteorite e questo jeans di terra nuova poi c'ho anche questo jeans secondo di terra la nuova poi ho questa magliettina con gli angeli che questa filastra adoro poi ho questi pantaloni facciamo prima pantalonini queste piccone questo qui così anche di qua giustamente poi c'ho altri leggings altri che iniziamo con le magliettine questa qui con la scritta poi questa qui chiede un crop top questa qui di terra nuova di terra nuova di una xs questa felpa che di cali di californico che della s poi qua ho altri leggings blu un giubbottino di terra nuova xs mi piace dare un po' i pantaloni tutti insieme qua questo pantaloncino con questo quest'altro così questo credi work out xl poi ciò questo qui della champions che c'è la scritta qua e qua tutta rosa poi ho qua un completino di pantaloni questo che di shane mi sembra che devono essere così e così poi una magliettina c'è tutte maite cortine che sono felice poi ho questo quindi questo pantaloncino dell'abidas molto che è molto carino altri pantaloncini rosa una magliettina terra nuova xs poi ho qua salopet poi questa chiede la marca spettua felpa questa chiede la mia preferita una magliettina così un crop top una canuzierina una magliettina pace obs questo completino di maglietta così e pantaloncino maglietta primark aiuto soccaduti questo qui invece la maglietta sempre di terra nuova mi sembra xs questo vicino pink è un guai ti sento anche black e white questa camicetta questa canottierina aiutate ok così poi a questa maglietta malibu e poi ho questa manetta col pizzo poi ho questi pantaloncino di calze d'olio per andare al mare questa manetta di bershka e per ultimo panno molto carino questo pantaloncino con la riga il mio unboxing è finito spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like e lasciate un commento ciao